Assolutamente sì, rifarei il liceo linguistico. Questa scuola in realtà mi ha dato intanto un metodo di studio e che poi ho utilizzato anche dopo negli anni dell'università e del conservatorio. Allora io adesso insegno in conservatorio e ho uno studio di post-produzione audio e ho vinto un Davide Donatello. Ce ne sono tanti, però forse il più bello di tutti è la gita di Quinta. Sono caduti tutti i muri e l'inibizione tra studenti e professori. È bello perché dopo cinque anni ti vedi cambiare le persone davanti. Un libro, un film, una canzone. Libro, cent'anni di solitudine. Film ci mettiamo, Inception anche qua. La canzone è troppe, troppe.